Allora, cari amici, voi sapete che Aleph, la scuola Aleph, classica, tradizionale, è cambiata da quando siamo diventati parte di attuare la Costituzione. Sapete anche perché abbiamo fatto questa mossa? Abbiamo fatto questa mossa perché prima Aleph era una scuola di crescita personale, adesso è una crescita personale e collettiva. Collettiva perché se non c'è la crescita della coscienza collettiva, la coscienza individuale non ce la fa a reggere un mondo così disastrato. Quindi è con gioia davvero che io vi annuncio che oggi iniziano le iscrizioni, inizia proprio il percorso di Uni Aleph online. Online cosa vuol dire? Vuol dire che può essere seguita da tutti gratuitamente a casa propria. Che cosa vi aspetta quindi? Da questa settimana in poi, ogni settimana, forse anche di più di una volta, farò una lezione come se fossi in presenza di un gruppo vostro. Se siete a Bologna, siete a Taranto, ovunque voi siate, io sarò lì con voi a guidarvi perché i primi tempi non è per niente facile spiegare cosa fare. Quindi vi guiderò a fare meditazioni, esperienze sul corpo, sul respiro, in modo da generare quel tipo di stato di coscienza dal quale si può cominciare a ragionare. Per prima di quel momento, sragioniamo. Ecco, dopo vi indicherò dei video da guardare, magari i primi li guarderemo insieme, io li commenterò e voi quindi imparerete un metodo. Questo metodo è un metodo di studio. Studio che vuol dire? Studio vuol dire riflessione, riflessione accurata e profonda. Oggi abbiamo bisogno tutti di fare una meditazione studiando, quindi far elevare lo stato di coscienza, ma nello stesso tempo studiare perché. Perché quello che sappiamo oggi è tutto falso, in quanto siamo condizionati alla falsità dei mass media imperanti ovunque. Quindi il nostro compito come università è generare una massa critica dei cittadini italiani che siano consapevoli non solo di sé e dei propri stati interni, ma anche degli stati in cui si trova il mondo. Oggi il mondo si trova in quello che Cartolle chiama l'ego collettivo più pericoloso che ci sia mai stato nella storia dell'umanità. Mi fermo. A parte queste sessioni di gruppo guidate da me, ci sono già i cosiddetti imperdibili. Sono una serie di video che si tengono insieme. Cioè sono video sulla crescita personale, ma anche sul terzo mondo, cioè sugli ultimi, ma anche sul terzo mondo che stiamo diventando noi, e anche sull'etica, la spiritualità, così come emerge dal nostro testo costituzionale. Perché vedete, noi come paese siamo un paese fortunato ad avere la carta costituzionale più bella del mondo, sulla quale si sono state modellate le dichiarazioni universali dei diritti umani. Quindi noi abbiamo una carta costituzionale che ci difende dalla finanza internazionale predatoria di cui oggi siamo vittime. Ecco, ci difende se noi diventiamo consapevoli di questo e quindi la cominciamo ad applicare. Ecco, in questi tre mesi voi avrete tutte le indicazioni necessarie per capire cos'è la nostra carta costituzionale e come potremo applicarla. Sapete che c'è una sinergia molto forte tra me e Paolo Maddalena, che è il costituzionalista più importante che abbiamo in Italia, quello che ha generato una vera e propria rivoluzione nell'interpretazione autentica della Costituzione. Allora, con questo io vi saluto e ci vediamo al più presto, ci terremo in contatto molto spesso. Andate poi sulla baccheca perché la baccheca è un altro punto importantissimo. La baccheca è il luogo dove io potrò mettere degli audio, dei video, dei testi, in modo che voi li conosciate subito. Perché io ho bisogno di contattarvi, io ho bisogno di avervi tutti davanti perché ho bisogno di feedback da parte vostra e ho bisogno che voi in tempo reale abbiate i miei feedback e le mie indicazioni. Con questo vi saluto e vi auguro ogni bene.